È una buona squadra di difficoltà come abbiamo avuto noi quest'anno, però mi sembra che nell'ultimo partito sia andato meglio. Su Honda, Honda è un bravo giocatore, l'avevo seguito anche quando lui era a Zieska, è un giocatore che ha giocato partite di alto livello, quindi se giocherà sicuramente sarà un giocatore importante nel derby. Su Kovacic San, confermo quello che ho detto, per me ha delle grandi qualità, poi bisogna metterle in pratica e usarle quando si ha la possibilità di giocare. Sul Nagatomo gli piace correre ancora, sempre, è un ragazzo straordinario e non ha giocato solo perché è stato fuori tanto tempo. Ha una questione fisica? Sì, ha una questione fisica, sì, certo, sicuramente. No, non è ancora in condizione di poter giocare una partita intera perché non ha ancora giocato. è rientrato una settimana fa, quindi la sua condizione probabilmente non è buona tanto da giocare 90 minuti, però vediamo domani.